Papa Francesco, uomo e donna non devono solo parlare d'amore, ma allearsi. L'alleanza tra uomo e donna è chiamata a prendere nelle mani la regia dell'intera società. È quanto sostiene Papa Francesco, che insiste anche sull'importanza di tale alleanza per contrastare le interpretazioni negative della differenza sessuale e di chi vuole cancellare tale differenza. Non sai che ti farei. La denuncia della ragazza che scatta selfie con i molestatori. Un account Instagram per postare i selfie scattati con le persone che la molestano per strada. Oxe, pochi laureati e bistrattati. Le performance degli studenti del sud indietro di un anno. Pochi laureati, poco preparati e bistrattati. Sedicenne violentata a Marecchiaro. Arrestati i tre minori, incastrati da social e DNA. A Napoli l'operazione dei carabinieri porta all'arresto di tre minorenni che sono stati accompagnati nel carcere minorile. Buonasera, buonasera a tutti dal vostro professore di vita Enrico Capace. Allora, Papa Francesco non vede ogni volta l'ora di comunicare al mondo quanto sia importante conoscere la differenza che c'è fra uomo e donna contro il pericolo di chi vuole negare tale differenza. Pericolo che non esiste perché nessuno nega l'esistenza di qualche differenza biologica ed anatomica. Ma il problema del Papa è che lui ha questa ossessione perché ha paura che il concetto classico di famiglia, uomo o donna, rischi di barcollare. Ma il problema per Papa Francesco è che non si rende conto della realtà. In natura non esiste la famiglia, ok? La famiglia è un contesto culturale ed è ora di finirla con questa barzaletta. Può essere famiglia un nucleo in cui abbiamo un uomo, una donna e un figlioletto, ma può essere una famiglia anche un nucleo in cui abbiamo quattro donne e due figli. Poi per quanto riguarda gli altri avvenimenti volevo dire due parole circa i dati sui laureati. Io veramente non riesco più a non disgustarmi nel sentire come vengono classificate le persone, come vengono descritte le persone. Le competenze calano le performance degli studenti del Sud. Noi cosa siamo? Le performance, le competenze. Per carità, non voglio essere troppo utopico e umanista, ma basta parlare di esseri umani sempre tranne in ballo parole come competenze e performance. Ma parliamo anche di sentimenti, parliamo anche di pensiero. Quello o mai, eh? Quello o mai. Competenze e performance. La crisi si vede da lì. Poi una parola anche sulle molestie. Allora, è chiaro che per una donna, specialmente se è un minimo attraente, è seccante camminare per strada e ricevere 40.000, diciamo, fischi, commenti di varia natura, qualcuno più spinto, qualcuno meno. Chiaramente non bisogna esagerare e non si possono definire quelle come vere e proprie molestie sessuali. Sono, diciamo, dei piccoli pirla camminanti per strada che devono romperti le scatole. Io non appoggio l'uomo che per strada si approccia così ad una donna. Per carità, potrà anche capitare, ma chi ha l'abitudine di approcciare le donne così a me non piace, perché un minimo occorre, un minimo di confidenza. Però ecco, cerchiamo di capire la differenza fra un disturbatore e un molestatore vero e proprio. Ma al di là delle notizie di cui parlano tutti i telegiornali, al di là di queste notizie, nelle prime, nelle seconde, nelle quinte pagine dei giornali, oggi volevo affrontare un tema che mi sta a cuore, ovvero la tematica delle esperienze e della logica, della riflessione. Insomma, è più importante nella vita l'esperienza oppure la logica, la riflessione, il pensare. È chiaro che sono importanti entrambe le cose. L'esperienza possono essere importante ed è importantissimo pensare ed avere razionalità. Ma se dovessi dire qual è la cosa più importante? A mio avviso la cosa più importante è assolutamente la logica e la razionalità. Questo però non significa sminuire l'esperienza. Però c'è un problema. In questa società troppi tendono ad esaltare l'esperienza come se di per sé bastasse. Ci sono milioni di persone che di esperienze ne vivono veramente in quantità industriali, però da esse non comprendono nulla, non imparano niente, né a livello razionale né a livello emotivo, non crescono in nessun senso. Quindi di per sé l'esperienza non è un valore aggiunto. Può essere un valore aggiunto l'esperienza quando è accompagnata da una capacità di saperla analizzare, saperla elaborare nel modo corretto. È chiaro che qualcuno potrebbe dire, ok, ma senza esperienza la tua logica non la puoi applicare su nulla, non hai il materiale. Attenzione, dipende. Dipende perché non si può generalizzare così. Per esempio, per quanto riguarda il senso o non senso della vita, ok? Guardare la natura della vita. Occorrono esperienze? No. Assolutamente no. Anzi, in quel caso le esperienze, se ne sei troppo intrappolate e non riesci a guardarti esternamente, rischiano addirittura di confonderti. Un conto è la vita in sé, un conto è l'esperienza e l'attività. Quindi in quel caso, per analizzare la vita in sé, non c'entra niente dell'esperienza. È chiaro che se tu vuoi conoscere, per esempio, ciò che si prova nel fare sesso, ciò che si prova nel fare sesso, devi fare sesso. Se tu vuoi sapere che cosa si prova proprio emotivamente, come ci si sente ad avere dei figli, devi avere dei figli. Chiaro. E lì potrei maturare, come posso dire, una comprensione inerente, cosa può voler dire per certe persone avere figli, proprio come si prova ad averli. Tornando l'esempio del sesso, che cosa si sente durante l'orgasmo, non puoi descriverlo tanto a parole, lo senti, ok? Attenzione, questi sono esempi particolari, anche perché invece, per comprendere che cos'è il sesso, non che cosa si sente durante il sesso, ma che cosa può essere, quindi una funzione biologica finalizzata alla continuazione della specie che noi esseri umani utilizziamo, utilizzando le protezioni per il nostro piacere. Insomma, per dare una descrizione del sesso, non occorre aver fatto sesso. Per dire, per esempio, che le droghe fanno male e non sono una strada opportuna di vita, non occorre essersi drogati. Per dire che non fa bene ubriacarsi, ed è meglio non perseguire quella strada, non è necessario essersi ubriacati. Quindi, secondo me, per questo motivo, la riflessività, la lucidità, la logica, sono al primo posto. Poi è chiaro che in singole cose è necessaria l'esperienza. Per conoscere quel fatto lì, cosa si prova a lavorare in fabbrica otto ore al giorno? Lo sai soltanto provandolo. Senza essere stato in fabbrica otto ore potrai immaginarti che è faticoso, ma non è come viverla, assolutamente sì. Ma questo cosa c'entra? Cioè che per sentire che cosa si prova all'interno di certe esperienze occorre viverle? Questo significa che in generale per comprendere la realtà occorre per forza l'esperienza? No, manca veramente la logica in questo discorso. Ecco, forse chi afferma questo è troppo incentrato nelle esperienze o nel dire che l'esperienza è contro, che si dimentica della realtà. Per singole cose, per comprendere che cosa avviene all'interno di esse, chiaro che è necessario provarle, ma per avere una visione, per esempio, circa la vita, circa tanti aspetti della realtà, non sono necessarie le esperienze in sé. Per dire, è egoistico o un atto d'amore fare figli? Ecco, per poter dire questo, è necessario farli? No, nel farli sai che cosa si prova, potrai renderti conto della difficoltà nell'avere dei figli, nel bene e nel male, anche che cosa si prova di positivo. Ok, ma per affermare, è egoistico o un atto d'amore fare figli? In sé in generale, in generale, è necessario farli? No, per quello occorre riflessività, ragionamento, riuscire a guardare oltre le convenzioni sociali, oltre i filtri, tra quello che ti hanno inculcato, magari fin da picco ti hanno detto la famiglia sacra, fare figli è sacro, amore, amore, ecco, riflessività logica vuol dire, ok, ma questa cosa perché? Perché è un valore? Perché me l'hanno detto? Perché è così? Non lo so, a volte dicono delle cose che sono anche vere, ma io devo analizzare e capisco se è una cosa vera al di là della tradizione del dogma oppure no. Poi è chiaro che una persona riflessiva, una persona con grande senso della logica, che in generale comprende le dinamiche, sa andare oltre, e questo è importante nella vita, riuscire ad andare oltre le apparenze, oltre la superficie, una persona che ha questo tipo di propensione, vivendo esperienze, ha più materiale, ok, ha molto più materiale, piano piano che si cresce, si fanno esperienze, ha più materiale per utilizzare la sua riflessività e allargarla ed estendela anche nei casi particolari. E magari aggiungere qualche elemento, perché generalmente uno può avere una, come posso dire, una teoria generale che può avere delle piccole varianti anche a seconda, diciamo, dell'esperienza che può un attimino darti qualche elemento in più, ok? Basti pensare a un leopardi, un leopardi della vita ha capito tanto, un leopardi è un genio assoluto di esperienze nell'inizio dei pochi. Quindi l'esperienza di per sé è nulla, è tutto, d'accordo? Ci può essere una persona che ha mille esperienze e da essa ha capito tanto. Ci possono essere persone che ha poche esperienze, ma nonostante ciò hanno capito tanto. Poi è chiaro che in certi ambiti, diciamo, posso dire specifici, l'esperienza serve, ok? Per, che ne so, avere dimestichezza con un certo tipo di mansione, la devi fare. Non è che le impari perché pensi, perché leggi in un libro come si fa, ma un conto è imparare un qualcosa con l'esperienza, inerente a quel campo lì. Un conto è in generale nella vita, ok? Ecco perché secondo me la maturità, la riflessività, come posso dire, consapevolezza, scusate, maturità e consapevolezza non sono tanto per l'esperienza in sé, sono per una generica propensione a saper riflettere, saper ragionare, e con le esperienze il tutto si moltiplica. Quindi a mio avviso se dovessi rispondere, è chiaro che contano tutte le due, però è molto più importante una riflessività di base, ma lo dicono i fatti. Questo non è un mondo in cui mancano le esperienze, in cui le persone hanno difficoltà ad avere esperienze. Mamma mia, sono là a fare la gara a chi ne ha vissute di più, però non vedo un mondo di maturi, non vedo un mondo di pensanti. Ok? Quindi la capacità riflessiva, la capacità logica è la cosa più importante, la cosa fondamentale. Ripeto, è una persona che ce l'ha, con l'esperienza può crescere ancora. per quanto riguarda alcune esperienze. Per quanto riguarda alcune esperienze specifiche, non è che cresce. Per esempio, un consapevole che sa molto della realtà, vive varie esperienze e un giorno vive anche l'esperienza di ubriacarsi. Non è che quell'esperienza di ubriacarsi lo fa crescere. Sa semplicemente che cosa si prova nell'ubriacarsi. Proprio tecnicamente c'è dentro e sa che cosa si prova. Ma magari già prima sapeva che sarebbe stato male, che comunque non è una strada da perseguire. Ok? Io spero che questo mio video vi abbia fatto riflettere. Domani sera ci vediamo con una nuova puntata di Antici Consapevoli. Spero che possiate gradire questa nuova modalità. Pillola all'inizio. Il mio breve commento circa le notizie che ho diciamo diciamo enunciato all'inizio. Non tutte, ma però bene o male quello che mi viene e poi il mio monologo. Ci vediamo qui domani sera per una nuova puntata e domani pomeriggio per la lezione pomeridiana. Vi ricordo, sabato vi aspetto per la live sulla felicità. non dimenticate mai che cosa non dovete mai dimenticarvi. Viva la consapevolezza e viva l'amore. Reciproco. Grazie a tutti. Grazie a tutti.